sto davvero per fare un vlog wow mi sento mi sento quasi una persona importante perché sapete se si fa un vlog si presuppone che bisogna dare delle informazioni ai propri iscritti solitamente io già mi stupisco di avere i miei 25 slash 26 iscritti non so che fine ha fatto il 26esimo ma sembra sparito nella dimensione segreta del mangekyo sharingan comunque sì sto per fare un vlog perché ho diverse cose da dirvi però prima la trasformazione e la sigla attacca questo è un art attacca questo è art attacca ok ragazzi informazione numero 1 ho scoperto nonostante i miei mezzi che fanno i miei pochi mezzi che fanno schifo che anche io posso fare quella cosa figa del dividi dividi all'interno del video e taglia così da tagliare le parti in mezzo al video il che è una figata magica cosa che prima non potevo fare e questa è una cosa seconda cosa ho ritrovato il cappello mi fa piacere che abbiate apprezzato i video sui cosplay ma cambierò il titolo da otaku uguale figo al cubo ad appassionato uguale figo al cubo perché farò un video apposito in cui spiegherò la differenza tra appassionato giappominchia e otaku perché sono tre cose più o meno diverse e io sono un appassionato non sono né giappominchia né otaku anche se questo cappello e tutto il resto potrebbe darvi l'impressione opposta per capire perché otaku non va bene questo lo dico a tutti gli italiani che si definiscono tali e anche agli stranieri se capiscono l'italiano ho dovuto andare all'expo di milano praticamente sono andato all'expo di milano al padiglione giappone ovviamente non me lo sono lasciato scappare e avevo scritto su un foglio e ho dimostrato quanto posso essere un coglione ma i camerieri o comunque quelli che incontravo lì al ristorante e poi nella mostra del padiglione sorridevano perché gli era simpatica questa cosa e infatti con alcuni ci ho anche chiacchierato molto volentieri e ho scoperto che c'è una cosa che assolutamente non si può mangiare che è il wasabi perché è talmente piccante questa salsa da sapere di acetone però così divaghiamo il concetto è che poi vado al padiglione della New Holland che mostrava le nuove tecnologie di agricoltura e una che aveva studiato il giapponese legge il mio cartello e dice ma tu sei un sociopatico patologico con problemi di relazione con gli altri e stai sempre chiuso in camera? no? perché? e beh ma sai otaku significa questo in giapponese eh? e io non lo potevo sapere perché il google plus mi ha dato un'idea totalmente diversa di che cos'è un otaku non sapevo che significasse talmente tarato e appassionato di anime, manga e videogames dal non uscire di casa e non avere altre passioni e quasi neanche altri amici io per quanto non abbia una vita sociale io ma una vita nel sociale e vi spiegherò poi in un altro video la differenza io non sono così per me non esistono solo anime, manga e videogames ci sono anche i fumetti, i prodotti d'animazione degli altri paesi America, Italia, Francia e ho anche altre cose fuori dal mondo nerdoniano e l'altra cosa che vi voglio dire anzi la terza cosa che vi voglio dire per essere precisi è che mi voglio scusare perché nell'ultimo video di Deredere ho fatto l'idiota bigotto di merda in che senso idiota e in che senso bigotto perché ho detto che Angel Beats mi stava sul cazzo per la trama quando io ho visto solo la prima puntata e per questo sono un idiota perché ho giudicato un intero anime di 25 puntate dalla prima sola il che è una troiata e io ho fatto l'idiota in questo caso ho fatto anche il bigotto perché dicevo che per via degli spiriti che si vogliono ribellare a Dio in questa sorta di college praticamente è come se avessi detto che promuove il satanismo e io qui ho fatto il bigotto che è come essere idiota perché ho fatto il fissato con la religione sì è vero io sono uno molto credente non mi faccio problemi a dirlo anche perché non c'è un problema però trovo che ho trovato da solo che ho fatto lo stupido perché è una cosa stupida poi appunto io non so neanche come si svilupperà questa storia quindi non c'è da spiegare sono proprio stato uno stupido ci credereste che ho smesso di guardare Bakemon Agatari alla prima puntata perché Oshimo o come si chiama il personaggio che si è visto a fine puntata aveva un collare che sembrava una croce girata al contrario cioè anche qui dalla prima puntata ho già detto no non lo guardo più per questa cosa e questo sì è bigottismo purtroppo e quindi ho deciso che mi farò perdonare guardando l'intera serie di Angel Beats e poi recensendola sperando di aver coniugato questo verbo giusto troppo lavoro troppo lavoro mi stanno venendo i capelli bianchi pure d'estate le altre info la prossima volta aspettate il video e ciao ciao Grazie.